Ciao a tutte ragazze, nuovo video all, questo sarà un video all dei saldi, pochi saldi che sono riuscita a concludere perché questo mese è stato un disastro più totale tra il trasloco della casa eccetera eccetera quindi non vi dico neanche e sono appena stata qua ad Affi, ho fatto appena poco shopping da Tezenis avrei tante altre cose da farvi vedere però a questo punto direi di fare diversi video anche perché magari almeno ho più possibilità di postare video su Youtube poi ho problemi con la connessione qui e devo cambiare anche operatore quindi è tutto una confusione dal telefono sono sempre super bianca, ma io non lo so, vabbè spero che comunque l'inquadratura non è delle migliori però è dove ho più luce dimmi amore, vieni a salutare anche tu, vieni a salutare anche tu, dici ciao a tutte, ciao a tutte io sono la rompipalle di casa e a me piace miau 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 guagliare, dimmi amore dai fammi finire qua allora Tezenis, video molto spiccio, spero di non annoiarvi anche con le mie solite parole bla 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 ok allora ho preso, visto che ho trovato l'occasione, le ho presi per soli 4,95€ ho preso gli asciugamani da spiaggia anche perché adesso tra una settimana vado in ferie e quindi sono molto utili e ho preso sia questo con la fantasia, con i fiori, cioè ho preso gli unici che c'erano sinceramente non è che mi interessa che abbiano chissà cosa, però almeno da avere qualcosa di nuovo e poi ho preso quello col peperoncino rosa che è il mio preferito sinceramente con scritto hot pink pepper, vabbè insomma che è stesso ecco, quindi per 5€ due asciugamani anche belli grandi direi che va bene perché io sono Tezenis, quello che mi ricordo, faceva asciugamanini piccolini, piccinini, 1,50m cioè cagatine, che cosa servono, io non lo so questo invece ci sto io, dentro, perfetto poi cosa ho preso, ho preso 3 cose, ma proprio 3, 3, 3, 4, 4 di numero allora, cos'è sta roba? che è sta roba? non si sa vabbè, allora intanto cominciamo dal costume, ho trovato ovviamente se non compro un costume non sono marina, giustamente, mi pare ovvio, poi se andiamo in ferie i costumi servono ne ho tipo 20.000 su allora ho preso solo il pezzo sotto, eh cioè mi sono un po' più sprecata perché questo qua lo metterò col pezzo nero sopra ovviamente quindi ha queste alettine qua che mi piacciono un sacco, vi giuro cioè, veste da dio, è brasiliana e sinceramente pensavo peggio questo l'ho pagato 6,95€ se non me l'ho spagato meno con lo sconto io non ne ho idea comunque vabbè, mettete anche che costava che? costava 12, 15, non lo so comunque vabbè, ho preso una taglia S e mi sta perfetto e quindi ho detto vabbè, insomma anche con il pezzo bianco sopra l'ho pensato, adesso che ci penso ora visto che ha le rouge qua sia bianche che leopardate sta sfalsando un sacco i colori comunque vabbè, sta sbiancando troppo anche queste mutande non ci siamo che faccia da culo ok, comunque queste che mi piacciono un sacco poi per stare in tema leopardato cioè, stare in tema ho preso addirittura gli shirt allora da lì sembrerebbero grandissimi in realtà sono tutte taglie S in realtà mi sarebbe piaciuta anche un po' più piccola perché su di me fa un po' troppo grandina però vabbè è proprio quel modello che va ora non troppo sgambato quindi ce l'avete sotto la chiappa comodo da mettere quando cavolo vi pare e io direi che anche per le mie ferie che sarò sempre in braghetta corta e canottiera, vada Dio quindi ne ho presi tre non uno ma tre quindi l'ho preso leopardato e questo l'ho pagato 4,95 euro da 10 euro quindi con la metà l'ho preso nero questo qua è quello che mi sa più grande di tutti perché è un po' mio largo in vita però lo posso mettere più basso più alto quindi sembrerebbe enorme in effetti sembra grandissimo però ha quell'effetto addosso che è figo cioè fa figo tipo effetto pigiama che mi piace a me e questi qua li ho pagati 4,95 euro anche questi con la metà e hanno la parte qua che è rosa fluo e da lì non rende il fluo perché sto telefono mi spegne i colori io non ho ancora capito il motivo ma vabbè imparerò poi li ho presi bianchi perché bianco non può mancare questi c'erano anche rossi e poi di questo modello qua c'erano anche blu ad affi se volete c'è ancora roba non tantissima c'è qualcosa e anche questi li ho pagati 4,95 euro questi hanno le bandine qua dalle parti così ma sinceramente carine anche se erano belli anche solo bianchi ecco questi qua penso che li metterò tantissimo perché io amo il bianco poi in estate è fantastico quindi niente basta questo è quello che ho preso so che non è niente di che però voglio fare un video e di cioè di postare un video su youtube perché oramai più di un mese che non esisto ecco quindi niente io ho in programma di farvi vedere altre cose però penso che farò un altro video un altro pomeriggio cioè un altro giorno che ho in casa dal lavoro e non ho un cazzo da fare perché è stato veramente un mese è disastroso questo e non avevo ma io mi sto ammazzando sotto il divano e non avevo neanche il tempo diciamo neanche il tempo per me stessa quindi mi è stato proprio difficile fare il tutto adesso che piano piano ci siamo sistemati tra virgolette e tutto quindi magari un po' di spazi o un po' di tranquillità riesco anche a girarvi qualche video in più bene ora io vi saluto vi mando un bacio spero di riuscire a postarvi gli altri video prima delle ferie perché dopo per due settimane io sparirò tanto qua anche più di un mese io sparisco e volevo ringraziare tantissimo le ultime iscrizioni perché ho visto che ci sono state altre iscrizioni quindi grazie mille davvero mi fa davvero piacere e niente ci vediamo al prossimo video e chi vuole mi può seguire su instagram mari.nan92 anche se ho questa faccia da culo voi seguitemi sempre ciao ciao